A Torino una giornata di studi dedicata alle tecnologie per il patrimonio culturale, all'appuntamento organizzato dal Politecnico di Torino dal Centro Conservazione e Restauro di Veneria. Una giornata dedicata alla collaborazione tra Politecnico di Torino e Centro di Restauro, una collaborazione attiva da sempre ma che oggi ha visto più di 150 persone confrontarsi su temi di ricerca legata al patrimonio culturale. Il Centro di Restauro di Veneria Reale da sempre si occupa di conservazione del patrimonio ma oggi sempre di più la ricerca è interdisciplinare e le attività legate alla tutela, al restauro, all'innovazione anche nel campo della conservazione del patrimonio culturale richiedono la collaborazione tra soggetti diversi. Il Politecnico è un centro di competenza importantissimo di questo territorio e lo scopo di questa giornata è proprio sistematizzare e rafforzare anche nei confronti della proiezione internazionale le competenze del territorio in quest'ambito. Oggi abbiamo iniziato da subito a raccogliere questo catalogo di bisogni che il nostro territorio esprime. In primis un bisogno di nuove tecnologie, tecnologie avanzate che vanno a complementare le nostre esperienze su campi di applicazione diverse si pensa per esempio ai nuovi materiali, all'information communication technology oppure a tutto il mondo dell'IoT applicato ai beni culturali ma anche attività molto più tradizionali. Oggi sono emerse per esempio attività che riguardano la sostenibilità e il risparmio energetico che possono sembrare attività complementare e non strategiche per le istituzioni per esempio museali invece oggi sempre di più queste fanno parte di una gestione attenta e oculata di tutta la dinamica del mondo del cultural heritage. Abbiamo poi visto tematiche di tipo prettamente impiantistico, di integrazione impiantistico-architettonica o di evoluzione della concezione degli spazi, della fruibilità e degli accessi dei luoghi per il cultural heritage. Sono tutte tematiche che con il Centro Conservazione e Restauro abbiamo iniziato da sempre ad affrontare non solo dal punto di vista della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico ma anche degli aspetti formativi visto che insieme abbiamo degli importanti percorsi per l'educazione e la formazione dei giovani.